La campagna vaccinale prosegue e i magistrati saltano la fila. Nel programma regionale per le inoculazioni, approvato dalla Giunta lo scorso 22 marzo, tra la popolazione Target vi è anche il personale delle procure della Repubblica e dei tribunali. Dall'iniziativa sono stati esclusi avvocati e praticanti. Da un lato i legali, anch'essi addetti alla giustizia e fruitori dei tribunali, ritengono che sia una contraddizione privilegiare una categoria ed escludere l'altra. Dall'altro sono però contenti di essere scampati a un privilegio che li avrebbe messi in imbarazzo davanti alla popolazione. La campagna vaccinale infatti prosegue zoppicando, soprattutto a causa dei ritardi nelle forniture e dei capricci delle case farmaceutiche. Non tutti gli over 80, i soggetti più fragili, hanno ricevuto la loro dose. Forte perplessità per questa scelta, non tanto perché dimentica gli avvocati che sono una parte fondamentale della giurisdizione per cui noi non capiamo come si possa procedere la vaccinazione di magistrati e non degli avvocati che insieme al personale di cancelleria frequentano tutti i giorni gli stessi luoghi e sono affaccendati nelle stesse faccende. Ma non tanto questo. Dicevo quanto il fatto che il governo aveva espresso da ormai diversi giorni una posizione diversa che era quella di procedere alla vaccinazione per ordine di età e di fragilità e quindi in questo senso gli avvocati hanno manifestato quasi soddisfazione per non essere stati posti nell'imbarazzo nel quale sono stati posti invece i magistrati che si trovano a dover spiegare alla collettività un fatto, se vogliamo, che non tutti comprendono. Non c'è nessuna polemica, risponde il presidente Marsilio, perché si tratta di due vaccini diversi. Quello che diamo ai magistrati, spiega il governatore, non può essere dato ai soggetti fragili. Non solo per l'eseguità del numero delle persone di cui stiamo parlando ma soprattutto perché si tratta di due vaccini diversi. I vaccini dati ai magistrati come i vaccini dati alle forze dell'ordine o al personale scolastico non vengono sottratti agli anziani che ricevono un altro vaccino e non possono ricevere il vaccino AstraZeneca con cui stiamo vaccinando altre categorie. La vaccinazione prosegue in parallelo. Se oggi non abbiamo ancora vaccinato tutti gli over 80 semplicemente perché non ci hanno dato tutti i vaccini che servivano per farlo. Se ce li danno, correremo più velocemente di quanto non abbiamo potuto fare finora e vaccineremo tutti il prima possibile. È sufficiente come spiegazione questa? Io parlo a titolo personale a questo punto. Non mi convince appieno questa spiegazione. Qui non mi sembra che si sia fatto un discorso di età quanto piuttosto di funzione. Se è così non mi pare appunto che sia una spiegazione razionale. Grazie a tutti.